E carissimi amici, carissime amiche, benvenuti sul canale, seguiamo passo passo l'evoluzione del caso di Pierina Paganelli, che voi sapete, io ho pochi dubbi, come credo anche tutti quanti voi su questo caso qui. Però finché non ci saranno dei provvedimenti ufficiali del PM, noi ovviamente possiamo sempre ragionare sul condizionale. Stamattina vorrei aprire la nostra riflessione sulle immagini della trasmissione di ieri di ore 14, in cui è stato fatto vedere un Giuliano Saponi, un ricagnolino di sera, che scendeva giù a fare quattro passi. Un'immagine di dolore, un'immagine di solitudine, con una moglie, questa Manuela, ancora fuori casa, che va a dormire da, non meglio precisare, i parenti, insieme con la figlia. E c'è quest'uomo solo, quest'uomo solo. Ed è testimonianza ciò di un conflitto insanabile, di quello che non può non essere un conflitto insanabile all'interno di questa famiglia e che lo era, lo era anche precedentemente, anche prima del cosiddetto incidente. Figuriamoci adesso con una mamma uccisa e con dei dubbi che egli ha per primo. Si è saputo che il PM aveva anche sconsigliato a Giuliano di rientrare in casa, ma mettiamoci anche nei suoi panni. Quella è la sua casa, quello è il suo territorio, perché egli non avrebbe dovuto rientrare a casa sua. Forse per un pericolo, un pericolo di vita, lo avrebbero ammazzato. Ma lui cosa c'ha da perdere più nella vita? Ha perso la mamma, stava per perdere la sua stessa vita dopo mesi di coma. Non può temere a questo punto. C'è l'atmosfera elettrica in famiglia. C'è una Manuela Sud in volto. C'è un Luis che minaccia mastellate, mastellate ai giornalisti. C'è una Valeria e anche un Loris spariti dalle telecamere. Giuliano Saponi passeggia con il cane, si siede a una panchina e si flette ad alta voce. Dice, come vuoi che vada con Manuela? C'è queste cose le abbiamo chiarite, ma cosa volete che possa chiarire una persona che già precedentemente sapeva che la moglie se la intendeva con il vicino di casa? Poi fa un pericolo della mamma, di colei che gli ha tenuto la mano per mesi mentre era ricoverato e dice anche di avere l'idea di cosa sia successo. Probabilmente l'idea che abbiamo un po' tutti e che dice la procura sa, la procura in gamba, la procura sa come sono andate le cose, lasciando intendere che la procura sta sulla strada giusta. E allora la giornalista le chiede direttamente, ma hai fiducia di tua moglie? E c'è un silenzio piuttosto eloquente, non risponde, dice non ti dico niente di personale, ma si vede che è macerato da tanti dubbi, forse da certezze. Poi nella trasmissione di ieri vengono fatte anche sentire delle dichiarazioni di Giacomo, di Chiara e gli altri due figli, che illustrano come in effetti la loro mamma, la signora Pierina, non fosse quella donna impicciona che va parlando male della nuora, ma era una donna amata, amata da tutti, una donna forse sì, rispettosa, dolce, ben voluta dagli altri, quindi ne danno certamente un altro aspetto di quello che si è voluto dire. Ma un altro elemento che è emerso nella giornata di ieri e che ancora di più acuisce quello che doveva essere l'odio e il risentimento in ambito familiare è questo fatto che si era alla vigilia, il giorno 3 di ottobre, si era alla vigilia di una riunione che si sarebbe tenuta il giorno dopo nella congregazione dei testimoni di Geova in cui si sarebbe riunito il cosiddetto comitato dei saggi che avrebbe dovuto decidere circa l'allontanamento di Manuela da testimoni di Geova, evidentemente per questo suo compostamento, aver lasciato la famiglia, avere un rapporto extra con l'uguale. E certamente questo non era vissuto bene dalla stessa Manuela che lo vedeva come una sorta di umiliazione e certamente non si può escludere, anzi è sicuramente certo il ruolo di Pierina che nell'ambito dei testimoni di Geova aveva una certa influenza e quindi anche questo aspetto religioso va tenuto in considerazione come elemento che acuisce l'odio. Allora ci viene in mente anche il famoso audio, cioè lo sfogo, che Loris fa a Giuliano, quel famoso audio registrato in segreteria, in cui gli fa una paternale da giustiziere religioso, dice pensavo che tu fossi cambiato, non lo sei, spalli di uno, spalli di un altro, però c'è Geova Dio che poi provvederà per te e questo dono da giustiziere religioso lui lo mantiene anche quel giorno 4 mattina, quando invece di essere disperato o dispiaciuto di tutto ciò che era avvenuto, dice a Luis, dice esattamente, non giustizia è stata fatta, ma giustizia divina è stata fatta, così leggo sulla stampa, e questa giustizia divina è stata fatta significativa, non si può non riagganciare a ciò che egli aveva detto a Giuliano e a ciò che stava per avvenire nei testimoni di Geova. E poi ci si aggrappa la ridicola scusa di dover dire a Luis questa frase per vedere se lui sapeva una reazione perché fosse magari il dubbio che lui potesse aver fatto qualcosa. Questo purtroppo è un altro elemento importante che conduce alla colpevolezza. Non ci sono tanti dubbi a mio avviso. Stamattino mi hanno anche mandato uno spezzone di un video in cui legittimamente ognuno dice la sua, ci sta pure questo sensitivo all'occhi, sempre si chiama, che esplicitamente dice i colpevoli sono Lodis e Luis. Voi sapete cosa ne penso io di questi sensitivi, di queste cose qua? Mi trovano sempre contrario perché li tengo di essere una mente logica e razionale, per cui sapete tutto ciò che è in questo ambito un po' vago, mi lascio un po' sempre perplesso e interdetto, ma nel caso specifico, per quanto riguarda questa opinione, non posso che essere d'accordo. Stavolta non posso che essere perfettamente d'accordo, perché i nodi stanno venendo al pettine. Certamente non possiamo immaginare che un'azione così cruenta e violenta sia potuta essere posta per mano femminile come Manuela o addirittura Valeria. Assolutamente no. Chi erano gli altri due che potevano avere ruolo nella vicenda per diversi motivi? Non rimangono che Lodis e Luis. E allora ho sentito dire Lodis è la principale persona che avrebbe commesso questo omicidio e Luis stava lì perché poi un'azione combinata sicuramente è probabile. l'azione combinata di due persone perché il fatto che fosse spenta la luce lì, l'ascensore è bloccata, è sintomatico di un'azione combinata per fare in modo che nessuno potesse asivare di improvviso. E quindi questa persona, questo sensitivo dice, secondo me, Luis e Lodis hanno fatto tutto e Luis stava lì a controllare. Ma io se proprio dovessi dire la mia, ma sempre in ipotesi, perché vedete, quando parliamo di queste ipotesi dobbiamo sempre partire che ad oggi, ad oggi, non ci sono ancora abissi di garanzia nei provvedimenti. Però se io mi dovessi spingere, direi, secondo me, il contrario. Direi il contrario. Io vedo più, se dovessi dire la mia, un Luis che commette praticamente questo omicidio perché lo vedo, diciamo, più pratico, ecco, nell'uso delle armi e un po' più pavido vedo a Loris che può essere un fiancheggiatore, chiamiamolo così. Però, ovviamente, sono per il momento suggestioni, chiamiamolo così. Però, in effetti, non è che se si parla di colpevolezza si può pensare che sia l'uomo venuto da fuori. Però vorrei andare verso la conclusione di questo video sottolineando quattro elementi, a mio avviso, molto importanti. Il primo è che quell'ascensore bloccato dopo le 22 era qualcosa di importante, certamente non casuale, perché ha funzionato prima ed ha funzionato dopo. È stato bloccato dopo le 22 perché, oltre a non rendere possibile il fatto che qualcuno scendesse giù all'improvviso con l'ascensore, ma rendeva oscura anche l'aria prossima all'ascensore, quindi alla posta tagliafuoco, proprio lì dove è avvenuto il delitto. E quindi rendeva possibile anche ascoltare, eventualmente, se qualche persona, magari a piedi, stesse scendendo da sopra. Quindi è probabile che ci sia chi ha sorvegliato e chi ha agito. È molto probabile che sia avvenuto proprio tutto così. Quindi questo è come primo elemento che sicuramente è avvenuto, a mio avviso. Secondo elemento è un po' questo che sta diventando una barzelletta, cioè il fatto dei 2.000 euro. Ora, Manuela, secondo me, è un po' l'amantide, diciamo. La figura che assume una regia, un plagio quasi in questa storia. La persona che ha la più grande personalità e che la vedo come una persona che possa plagiare in qualche modo. E allora quando dici di questi 2.000 euro, attenzione, innanzitutto parla prima di averli dato per paura dell'ufficiale giudiziario e questo è proprio quando si raccontano le barzellette, perché è ovvio che un ufficiale giudiziario, quant'anche dovesse entrare in casa, si limita a poter pignorare, casomai, dei mobili e delle cose che stanno in vista. Non è che va a scavare negli anfratti reconditi della casa per vedere se trova dei soldi. 2.000 euro sono un totolino piccolo di soldi che puoi conservare dovunque. Poi, forse si rende conto di averla detta grossi, dice no, ma io in effetti gliel'avevo date per paura di spenderli, come se avesse una compulsione da giocatrice, come se avesse qualche dipendenza, come se fosse una ludopatica. No. E allora, e poi perché darle a lui, se non alla sua amica di 25 anni, Valeria? Sapete qual è il mio dubbio? Che forse non si tratta nemmeno di 2.000 euro. Forse si tratta di una cifra superiore. Forse si tratta dei 5.000 euro che lei aveva chiesto e ottenuto dal papà Duilio. Forse quei soldi servivano ad altro. Forse quei soldi, non 2.000, ma forse di più, servivano per incentivare, servivano come acconto da dare a Lewis. Oltre alla promessa di continuare quella loro relazione, possibile che sia una cosa del genere. Forse è difficile a credere però vedete, noi siamo abituati, specie chi segue la cronaca, a vedere come la realtà superi la fantasia. E che Lewis non c'è la racconta giusta, veniamo al terzo punto che voglio approfondire con voi, che Lewis non c'è la racconta giusta e anche per la consegna degli indumenti, quando nell'imminenza gli investigatori hanno chiesto a lui di consegnare gli indumenti di quella sera, lui ha consegnato gli indumenti del giorno prima che poi sono scaturiti da una foto in cui si vedeva che lui indossava durante il cosiddetto incidente pantaloni neri e scarpe scure ed aveva consegnato quelli, evidentemente che non erano quelli. E allora perché ha consegnato, forse per sbaglio, ha consegnato gli abiti diversi. E poi è stato tanto ingenuo da tenere quegli abiti in casa. Ci sono delle tracce sui suoi abiti. E se lui ha fatto qualcosa di così grave, è possibile che la moglie non sapesse? È possibile che l'unica ingenua di questa storia fosse la moglie Valeria che alle 21.55 ci tiene a precisare e va a letto? Siamo sicuri di ciò? Che cos'è questo sodalizio che somiglia a un sodalizio criminale? Ora, l'ultima cosa che volevo sottolineare con voi è poi questo silenzio assordante di Loris, in particolare di Loris, che dopo le sue molteplici apparizioni in tv su tutti i canali è sparito. Un silenzio, un silenzio non solo di paura, di calcolo, di riflessione. Ricordiamoci che non può non entrarci se scende da qualcuno di loro. Lui è l'alibi di Manuela, Manuela è il suo alibi. E non solo per quella sera, ma anche nel giorno dell'attentato a Giuliano, lui è l'alibi della sorella, e la sorella è il suo alibi. E quando sento dire una sciocchezza che quel giorno Giuliano fosse sempre che avesse cambiato l'itinerario della sua con la sua bici, per cui non poteva essere uno che l'aspettasse, non c'era bisogno di aspettare, perché ciò che è avvenuto è avvenuto a 300 metri appena da casa sua e certamente chi voleva fare qualcosa l'ha seguito più che aspettato. E l'ha colpito sembra compatibile le lesioni con con qualcosa tipo una grossa una grossa mazza un palo qualcosa che l'ha colpito ripetutamente alla testa. E' poco compatibile con un incidente che d'altronde poi ha lasciato del tutto illesa la bici che non ha alcun graffio e che invece è tipica degli incidenti. E allora sicuramente se ci saranno delle colpe di Manuela saranno di di Lodis se ci saranno di Lodis saranno di Emanuela e poi Luis che è entrato profondamente in questa famiglia e allora è inutile è inutile che ogni tanto si vedano questi consulenti balzani eccetera che cercano di ipotizzare moventi o persone venute da lontano non c'è nessuno venuto da lontano purtroppo ed è brutto ammetterlo è dall'interno delle famiglie che nascono i peggiori delitti e sono convinto che questo sia nato proprio dall'interno e sia una commissione sia di ecco di interessi religiosi di odi personali di paura di andare a finire per strada di paura di perdere ogni diritto nella propria vita perché Pierina era decisa a fare in modo che Giuliano la mandasse via di casa che si separasse comunque che divorziasse comunque in tutti i casi quindi motivi anche economici e sono sicuro che da un momento all'altro avremo dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria questo è per oggi l'aggiornamento e nell'attesa di ricevere novità io vi auguro una splendida giornata un buon 10 novembre e come dico sempre un abbraccio a tutti quanti voi grazie grazie